Ciao, io sono Adelaide. Vi piace la pizza? Vi piace il terrore? Vi piace la... In questo film potrete assaporarle tutti e tre e potrete sentirne anche l'odore. Terror Takeaway porta l'olfatto al cinema. Vuoi sentire anche tu? Prendi il biglietto in prevendita su Movidei. Avrai il posto assicurato in sala senza nessun costo aggiuntivo. Ci vediamo da lui.